buongiorno buongiorno oggi sabato 16 aprile 22 andiamo a farci un giretto in mountain bike con il mio amico stefano e oggi andiamo incontrare il gruppo di pendolino è un caro amico conosciuto quasi un paio di anni fa di ravenna era un po di tempo che non andavamo via con lui e quindi oggi quale occasione per riprendere a pedalare insieme ci ha invitato a fare un giro con lui e quattro suoi amici su aprile il cuore andiamo su in macchina e poi dopo facciamo un tracciato studiato da pendolino sosta pranzo in un bivacco e poi si torna a casa adesso andiamo a prendere il nostro chiaro amico stefano gabrielli eccolo da pendolino da pendolino a fare i pendolini stacca ci aprile il cuore stacca ci aprile il cuore stacca ci prendiamo una bella ciambellona che qua ceclisti att Velho qua quase mi chiamo eravamo al forno allora vestiti pronti si parte qui nello sfondo di premio il cuore il grande pendolino il grande pendolino ho lasciato a casa la gopro mi tocca fare tutto col cellulare c'è il stabilizzatore c'è la mano il gruppo pendolino comunque a San Vito c'è questo posto qui che è sopra è sulla strada che la montana vada piano buona che gruppone ciao 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 No, guarda che ne fate più tè, cominciamo anche a non averne fatte, però ne fate più tè. Vabbè, punto panoramico, freschi come una rosa, due foto al punto panoramico e poi si parte. Qua giornata è stupenda. Qua giornata è stupenda. Qua giornata è stupenda. Sì, è vero. No, no, no. No, no, aspetta. Ah, più avanti. Qui adesso? Qua. Qua. Qua giornata? Qua giornata? Qua giornata? Qua giornata? Qua giornata? Sì, non è vero. e vai e vai con l'elettrico turbo l'altro elettrificato l'indiratore del tour mitico pendolino fa più bicicletta da quando siamo in lockdown perché con lo smart working vai a lavorare a punta marina in bicicletta prima invece sono sabato e domenica ecco il pendolo fa il lavoro allora pendolo sempre bello però sto pezzo guarda qua altro pezzettino adesso abbiamo finito no il brutto stiamo andando a sbuccare nel valico dei tre faggi poi riprendiamo in direzione Campigna Passocala ma dove deviamo per poi giungere e completare l'anello arrivando a Fiumicello aspettiamo gli altri quattro abbiamo fatto un pezzettino un po' tecnico molto bello vai si riparte è Grazie. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Oggio Usciaiore I collegamenti sono ripresi dopo mezz'ora perché nel frattempo ho fatto una caduta che sono volato Il gruppo si è diviso, io e Stefano siamo tornati indietro e gli altri tre hanno proseguito Quindi ho rifatto un po' di salita e poi dopo abbiamo preso la statale che viene su da Primo il Cuore E siamo tornati a Primo il Cuore Danni? Beh, diciamo che delle scoriazioni per il volo che ho fatto è andato veramente bene C'ho un bucanino nella gamba che fa fatica a rimarginare Quindi abbiamo fatto un intervento di primo soccorso con dei cirotti a graffetta E poi abbiamo visto che la prima volta non ha tenuto Abbiamo rifatto la fasciatura, adesso speriamo che tenga E quindi non è sicuro che si ricongiunga anche il gruppo perché anche loro il gruppo devono tornare a metterlo Vedremo E vabbè St'altra volta il Cattalini deve stare un po' più attento Se l'ha lasciato e dove? Dopo c'è stato un black out totale E ci ritroviamo qui catapultati vicino a Statale Un birre, un mitico pendolino veramente E vai Grande Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto Vi manderò il resoconto di queste giornate Grazie Sì dai, non mi ricordo Grazie 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 Grazie